Salve a tutti, in questa quarta lezione esamineremo un argomento molto importante, e cioè le differenze che esistono tra Platone e Aristotele, tradizionalmente visti come due poli opposti e contrapposti l'uno all'altro. Queste differenze le esamineremo e analizzeremo riconducendola a quattro concetti generali, e cioè la concezione dell'essere che ha Platone confrontata con quella di Aristotele, le differenti concezioni che si hanno del sapere e anche però della finalità del filosofare, e il metodo e il linguaggio che è senza dubbio differente e che cambia tra Aristotele e Platone. Dove è andato? Per esaminare questi argomenti ci serviremo di questa mappa che ho preparato. Usare delle mappe è una cosa molto utile, anzi la cosa più utile sarebbe farle le mappe, perché facendole si impara praticamente l'argomento che si sta mappando, infatti si arriva a impadronirsi del linguaggio, del lessico dell'autore, dei concetti principali, dei principali problemi e così via. Tuttavia anche disporre di una buona mappa, e questa qui è meravigliosa perché l'ho fatta io, può essere utile perché si può ripetere a voce alta, seguendo la mappa, usandola come traccia, a voce alta però, in modo da ripassare l'argomento. Bene, è necessario ricordare che Aristotele per vent'anni fu allievo, prima e collaboratore di Platone, da quando aveva 16 anni, fino a quando morì Platone, ne aveva 36-37 all'incirca Aristotele, e che quindi partecipò senz'altro a quello che era il clima molto libero di discussione dell'Accademia, partecipò senz'altro a quella che fu la critica che Platone stesso portò avanti nei confronti delle sue dottrine, specialmente della dottrina delle idee. Questo lo sappiamo anche perché nelle opere acroamatiche, quelle che ci sono pervenute, quelle cioè destinate all'insegnamento che Aristotele usa nel suo liceo, in alcuni libri della Metafisica e in alcuni libri dell'Organon, sono contenute delle critiche che Aristotele elaborò nei confronti della dottrina di Platone già probabilmente da quando era nell'Accademia. Bene, ma lasciamo perdere questo aspetto e vediamo di sintetizzare con queste due parole. Triplice rifiuto. Aristotele rifiuta tre fondamentali impostazioni, principi, teorie della posizione filosofica di Platone. L'idealismo, prima di tutto, l'esistenza di un mondo delle idee separato dal mondo sensibile, dal mondo dell'esperienza, che lo trascende. Aristotele non è idealista, Aristotele sostiene una forma di realismo immanentistico. Cosa vuol dire realismo? Vuol dire che le idee sono dentro, per così dire, immanenza, le cose, come loro proprietà. Anzi, le idee in quanto tali non hanno esistenza alcuna, se non come quelle caratteristiche in comune che hanno le cose. L'unica realtà è la natura. Quindi non ci sono più due mondi, uno perfetto e uno imperfetto, ma uno solo. Rifiuta anche un'altra cosa. Per Platone non esistevano molteplici scienze, o meglio, tutte le scienze venivano ad essere inglobate nella filosofia, cioè nella dialettica, che era l'unica scienza. Mentre invece Aristotele rivendica la divisione specialistica delle scienze e quindi la loro autonomia. Esse andranno a formare un corpus, l'enciclopedia delle scienze, un corpus di conoscenze, ma la filosofia non è la regina o il tiranno delle altre scienze, e le altre scienze non sono subordinate ad essa. Terza tesi tipica del platonismo è la finalità etico-politica della filosofia. La filosofia era un'educazione al vero, ma la filosofia era anche un'educazione che aveva degli aspetti religiosi, comunanza di interessi, l'eros platonico. La filosofia anche come scopo è quello di trovare la felicità. E comunque, la filosofia poneva il senso più alto della vita, il vero, il bene, il bello, il giusto, e quindi il senso della nostra vita e della vita, in un mondo differente da quello in cui noi viviamo, cioè nel mondo ideale. non nel mondo della realtà naturale. Bene, a questo punto esaminiamo la prima differenza. Ho organizzato la mappa con Aristotele e Platone al centro. Già da questo si capisce la differenza. Platone indica in alto il cielo, il mondo delle idee. Aristotele indica invece il basso, la natura, l'esperienza. Vediamo intorno a questa figura di Raffaello ho costruito i vari segmenti della mappa. Prima di tutto, vediamo Platone e Aristotele riguardo all'essere, hanno una concezione, l'uno dualistica, e l'altro unitaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che per Platone, come sappiamo, non esiste l'essere, esistono per così dire due esseri, o quantomeno l'essere si articola in due realtà, il mondo delle cose e il mondo delle idee. Le idee sono causa delle cose e le cose essendo delle copie delle idee sono imperfette, non riproducono esattamente l'idea, sono molteplici per un'idea, abbiamo innumerevoli copie di essa e come sempre nel rapporto tra copie e originale la copia è imperfetta. Difatti, dice Platone, le idee sono immutabili e universali, l'idea di uomo non cambia nel tempo ed esiste un'unica idea di uomo che è la stessa per tutti gli uomini. Mentre le cose sono mutevoli e molteplici, non esiste un solo uomo, esistono tanti uomini, molteplicità, tutti diversi l'uno dall'altro e non solo, anche un singolo individuo sarà pur uguale a se stesso, ma in realtà cambia nel tempo, quindi sarà diverso in tempi diversi. Quindi, da un lato abbiamo le idee immutabili e universali che formano il mondo ideale e dall'altro abbiamo invece le cose che formano la realtà sensibile che è imperfetta. Il mondo delle idee è considerato come qualcosa di separato dal mondo sensibile. Le idee non possono esistere in questo mondo perché tutto ciò che esiste in questo mondo muta, si trasforma, è molteplice. Quindi vanno collocati in un altro spazio, in un altro tempo che trascende, cioè sta oltre, il nostro mondo, il mondo in cui noi viviamo, il mondo della realtà sensibile, quindi un mondo separato che rappresenta però l'essere vero, mentre il nostro mondo ha un livello di realtà, di essere, inferiore, e illusorio, e apparente come un sogno, dirà Platone in seguito. Per Aristotele invece le forme o idee non sono entità separate dalle cose. Aristotele a questo riguardo è molto critico che senso ha infatti porre le idee, cioè i principi, le cause delle cose, fuori dalle cose, addirittura in un mondo diverso da quello dove stanno le cose, e come hanno poi fatto a causarle, e come entrano in contatto. Ed ecco che Platone si barcamena e si infogna, chiedo scusa per il termine poco rispettoso, e tutta una serie di problematiche, le cose sono copie delle idee, no, non sono copie, le cose hanno dentro di sé la presenza delle idee, no, partecipano delle idee, ma ognuna di queste soluzioni comportavano una serie di problemi e contraddizioni. Alla fine Platone utilizza il mito del demiurgo, questa sorta di artefice divino che crea lui le cose ricopiando, usando come modello, come progetto di questo mondo di cose, il mondo delle idee. Ma Aristotele, probabilmente, accidenti al telefono, Aristotele e Platone non avevano questo problema, dunque, dicevo, per Aristotele il discorso del demiurgo, un mito, un racconto, doveva sembrare una cosa orribile, per niente scientifica, insomma, Aristotele ritiene che le forme idee, altro non siano che proprietà che sono immanenti, cioè stanno in qualche modo dentro, diciamo così, sono nelle cose che lui chiama sostanze, quindi gli enti, le cose, le sostanze, hanno dentro di loro le proprietà che le caratterizzano, anzi, queste forme idee non hanno nessuna esistenza autonoma, non sono entità che esistono in un altro mondo o in questo mondo, sono semplicemente caratteristiche che le cose hanno in comune, che il nostro intelletto poi astrae ottenendo i concetti, i predicati, le categorie. Quindi, abbiamo un mondo fatto di sostanze che costituisce nello suo insieme, cioè le sostanze nello insieme costituiscono la realtà sensibile, il mondo fisico, che a questo punto possiamo capire è unica, esiste una sola realtà sensibile, una sola realtà, quella formata dalle sostanze, non due realtà, una formata dalle idee, le proprietà delle sostanze e l'altra dalle sostanze. Questa realtà è empirica ed è l'oggetto della scienza. Ecco qui che avremo, anche avrete capito, un'unica scienza. Andiamo adesso a vedere, sempre riguardo all'essere, ecco, Platone ha una concezione non solo dualistica ma anche gerarchica, verticale della realtà. Esiste una gerarchia di enti, alcuni valgono di più, alcuni valgono di meno, una gradazione, insomma, di perfezione. Gli enti, infatti, gli enti, in generale, le cose che esistono, vuol dire, formano una sorta di piramide. In questa piramide esiste un livello massimo e un livello minimo, la massima perfezione, cioè il massimo livello di essere, e di verità, è la massima, è la minima, e il minimo livello di verità, è di essere. Avremmo già capito che le idee hanno il massimo livello di esistenza, le idee è il loro mondo, differente dal nostro. Anche tra le idee c'è una sorta di gerarchia, l'idea del bene, a volte Platone usa l'idea del bene, a volte del bello, a volte, insomma, lasciamo stare, comunque l'idea del bene, esiste un'idea suprema, l'idea del bene, poi esistono le idee di valori, tra cui ho compreso anche l'idea del bene, i suoi valori sono il giusto, il bello, il santo, il buono, eccetera, il vero, le idee matematiche, uguale, diverso, maggiore, quadrato, rettangolo, le idee di cose naturali, qui siamo già a un livello inferiore, le idee di cose naturali, che sono l'idea di uomo, di animale, di cane, di pinguino, e le idee di cose artificiali, che sono a un livello ancora inferiore. Quindi, non solo l'essere è concepito dualisticamente, diviso in due realtà, ma all'interno di questa realtà esiste una gerarchia e ci sono entità più degne, entità più importanti, che valgono di più e meno importanti. La svalutazione del mondo sensibile, cioè lo scarso valore che Platone assegna al mondo delle cose sensibili, è evidente. Andiamo invece a vedere Aristotele, che abbiamo detto aveva una visione unitaria dell'essere in un'unica realtà. Quest'unica realtà è concepita in modo paritaria, cioè le varie entità che esistono, qualsiasi cosa e se siano, sostanza, per Aristotele, idee, cose, per Platone, qualsiasi entità che esista è sullo stesso livello dell'altra, non c'è una gerarchia, non c'è un alto e un basso, non c'è un più valore e un meno valore. Infatti, tutte le entità che esistono sono enti concreti, che noi possiamo percepire con i sensi, enti singoli, non esiste l'idea di uomo universale, esistono solo i singoli uomini e appunto che formano degli individui, un tavolo e un individuo come un individuo e un uomo come un individuo significa entità autonome e indipendenti per Aristotele. Queste entità non si dividono in realtà superiori e realtà inferiori, tra un miserabile verme e il più nobile degli uomini non c'è alcuna differenza ontologica, cioè sul piano dell'essere, hanno tutte pari dignità per Aristotele, cioè hanno uguale valore. Discorso a parte meriterebbe l'essere perfetto, cioè il primo motore immobile, ma insomma adesso non complichiamoci la vita, effettivamente esiste anche un essere perfetto per Aristotele, però insomma questo lo spiegheremo in un altro momento. Andiamo adesso a vedere, altrimenti la lezione dura troppo e voi vi mettete a giocare con Facebook, andiamo a vedere il modo in cui Platone e Aristotele concepiscono la conoscenza. Allora, come Platone il platonismo è caratterizzato da un dualismo tra mondo delle idee e mondo delle cose, quindi sul piano dell'essere due realtà, e ovviamente sul piano del sapere esisteranno due forme di sapere, la scienza, episteme, l'opinione, la doxa. Così ripassiamo un po' anche Platone. La scienza però per Platone è unica, non stiamo dicendo scienze, c'è una sola scienza unica che è la dialettica. Questa scienza unica comprende tutte le altre, tutte le altre si risolvono nella dialettica. La dialettica che cosa studia? Studia i rapporti tra le idee, che cosa sono le idee, come si definiscono le idee, come si combinano tra di loro e via dicendo. L'altra forma di sapere è l'opinione, l'opinione che si basa sull'esperienza, cioè quel sapere che discende dai sensi e che perciò non potrà mai essere universale ma sarà anzi un sapere relativo, soggettivo e così via, quanto di più terribile ci possa essere per Platone. L'esperienza non ci dà una conoscenza delle cose ma appunto solo un'opinione soggettiva delle cose. La conoscenza è formata da verità universali, e una verità universale non può nascere dall'esperienza per Platone. Quindi se io voglio capire il mondo delle cose devo partire dal mondo delle idee. Quindi come il mondo delle idee è causa del mondo delle cose, così la conoscenza delle cose è tale soltanto a partire dalle idee. In altri termini, che cos'è un uomo? Per rispondere a questa domanda io devo rispondere alla domanda che cos'è l'idea di uomo? Da quali combinazioni di altre idee è formata l'idea di uomo? Eccetera, eccetera. Quindi dualismo ontologico e dualismo gnosiologico. Gnosiologico perché qui stiamo parlando di conoscenza, gnosiologia, sapere. Dualismo gnosiologico esistono due forme di scienza. Di conoscenza, chiedo scuso, una imperfetta l'opinione e una perfetta la scienza. E anche qui, ovviamente, se Aristotele ha una visione unitaria dell'essere, una sarà la conoscenza, però c'è una novità, Aristotele parla di scienze, abbiamo già visto nella lezione sull'enciclopedia delle scienze questi aspetti, quindi non mi so fare molte, non esiste una scienza, esistono molte scienze che si fondano sia sull'esperienza, i sensi, l'osservazione, l'esperimento, che sulla dimostrazione, quindi sulla logica, sul ragionamento ben formato, perché dimostrano le loro tesi, sono tra di loro autonome, quindi nessuna scienza può dire all'altra come fare, cosa fare, quando farlo e in che modo farlo, e quindi hanno pari dignità, pari dignità hanno i loro oggetti, pari dignità avranno le scienze che li studiano, e nel loro insieme, però, formano un'organizzazione sistematica all'enciclopedia. Ricordiamo che quindi ogni scienza ha finalità differenti da quelle delle altre, ha principi differenti, studia ambiti diversi della realtà e ha quindi un metodo diverso da cui l'importanza di Aristotele, l'insistenza sulla molteplicità dei metodi, non esiste la dialettica che tutto risolve, tutto comprende, tutto conosce, esistono tanti metodi differenti. Qual è il fine del filosofare? Anche di questo abbiamo già parlato in una lezione precedente, mettiamo a confronto con Platone. Per Platone la filosofia ha una finalità morale, religiosa, che consiste che consiste nell'educare la propria anima a rinunciare alla vita, a rinunciare al corpo per quella che è la vera vita. Infatti il senso della vita non è nel mondo sensibile ma è nel mondo delle idee, una sorta di educazione alla morte da questo punto di vista. Quindi un'ottica molto religiosa, Platone infatti parla dell'immortalità dell'anima, eccetera. Insomma, il nostro vero destino è in un'altra vita. mentre però stiamo attenti per Platone è fondamentale anche la finalità politica, la Repubblica di Platone tratta di quello e cioè il tentativo di trasformare concretamente la realtà. La filosofia è anche uno strumento che deve trasformare la realtà. Lo schiavo uscito dalla caverna non resta fuori dalla caverna a prendersi il sole, torna dentro dai suoi compagni per liberarli. Quindi questo significa che cosa? Che la verità ci serve per realizzare lo stato giusto. Infatti i filosofi sono governanti. Quindi la scuola di Platone si imparava anche il mestiere della politica. E Aristotele? Abbiamo già detto che per tutta una serie di motivi non esclusa la differenza di contesto storico per Aristotele è tutto differente. Infatti la filosofia per Aristotele ha una finalità conoscitiva serve per capire come è fatta la realtà e quindi serve per conoscenza disinteressata arrivare attraverso la ricerca a comprendere la verità e a formare l'enciclopedia delle scienze. È importantissimo anche lo scopo educativo ma non l'educazione dell'anima come Platone ma l'insegnamento la didattica per formare nuovi scienziati o comunque per far apprendere le scienze della natura. Bene anche qui abbiamo finito e passiamo adesso all'ultimo aspetto e cioè il metodo e il linguaggio anche qui cominciamo beh prima di tutto Platone e Aristotele hanno come abbiamo detto una differente concezione del sapere usano un linguaggio diverso anche i loro interessi sono sostanzialmente diversi cominciamo con Platone come sempre per Platone la filosofia e quindi il sapere nel suo insieme è un sistema aperto cosa vuol dire un sistema aperto che per Platone alla base del filosofare eredità socratica c'è il dialogo e il dialogo in che cosa consiste consiste certo nella dialettica e consiste soprattutto nel rimettere continuamente in discussione i risultati le stesse dottrine elaborate in precedenza quindi da questo punto di vista la filosofia è una ricerca che non ha mai fine Platone stesso rimette continuamente in discussione le sue teorie anche quelle più importanti anche quelle a cui tiene di più come la teoria delle idee che per lui è fondamentale viene rimessa in discussione nel Parmenine nel sofista lui stesso cioè critica la sua teoria infatti molte delle critiche che Aristotele e altri fanno in realtà primo a farle fu Platone primo a farle la propria teoria questo ci fa capire come all'interno dell'accademia non ci fosse un clima di dogmatismo alla scuola alla Pitagora la scuola dei Pitagorici così ha detto il maestro così ha detto Pitagora verità assoluta chiusa la discussione ma anzi venisse favorita questa attività di critica continua bene chiarito questo invece vediamo cosa qual è la posizione di Aristotele diciamo così per Aristotele tendenzialmente Aristotele concepisce il sapere nella sua formulazione finale per così dire come un sistema chiuso cosa vuol dire un sistema chiuso che le conoscenze nel loro insieme costituiscono un insieme appunto ordinato di verità universali ed eterne e quindi il sapere a quel punto è chiuso quindi una volta che io ho indagato ho scoperto i principi di un determinato ambito disciplinare ho messo in bella forma logica i miei ragionamenti eccetera ho concluso il mio lavoro sono arrivato alla verità chiuso il discorso per Aristotele tendenzialmente questo in realtà non è così semplice schematica questa contrapposizione comunque senza altro diciamo tendenzialmente un sistema aperto in Platone e un sistema chiuso in Aristotele e riguardo al linguaggio e riguardo al linguaggio c'è una differenza notevole anche qui anche qui ha una funzione decisiva in Platone il dialogo non ho messo la frecciolina qui mannaggia il dialogo infatti è il genere che Platone predilige e sceglie anche perché concepisce proprio la filosofia come un dialogo continuo non solo ma nel dialogo platonico troviamo combinati insieme sia la ragione il logos il discorso dimostrativo e razionale sia la poesia il mito la religione la ragione si caratterizza come attività dialettica è il metodo definitorio di Platone il metodo di eretico eccetera eccetera per cui io divido un'idea nelle altre eccetera eccetera e la poesia e il mito invece hanno una valenza narrativa ad analogo una serie di racconti il mito del demiurgo il mito della caverna il mito della bigalata e così via quindi racconto mito racconto ragione dimostrazione e dialettica convivono insieme nel filosofare nello stile comunicativo di Platone diciamo in Aristotele invece c'è una netta distinzione tra il logos il discorso razionale che è quello proprio della filosofia e invece la fede la poesia la religione il mito che non hanno alcuna rilievo alcune importanze alcun ruolo all'interno della filosofia se non come oggetti di studio magari e quindi Aristotele ripeto fede e poesia non hanno alcun ruolo all'interno della scienza mentre il logico e la ragione sono lo strumento proprio della filosofia e delle filosofie seconde insomma delle scienze nella sua duplice valenza comunicativa di dimostrazione e poi di lessici e linguaggi specialistici propri di ogni disciplina la dimostrazione studiata dalla logica comune a tutte le scienze e poi linguaggi specialistici di ogni disciplina bene vediamo adesso e concludiamo finalmente quella che è la differenza negli interessi di Platone e di Aristotele beh Platone è senz'altro la matematica si dice forse di Eugenio Laerzio che lo dice chi lo sa che Platone avesse fatto scrivere all'ingresso dell'accademia qualcosa del genere non entri chi non conosce la matematica o qualcosa del genere non ricordo precisamente la matematica è fondamentale per Platone soprattutto nell'ultimo Platone quello dei cosiddetti agrafa dogmata cioè le dottrine non scritte insomma le dottrine orali che erano frutto del dialogo del dibattito all'interno dell'accademia ecco pare che nell'ultimo periodo Platone tendesse a ridurre tutta la realtà ad un gioco di rapporti tra figure i famosi solidi platonici o tra unità numeriche come l'uno e il due la mona della diade eccetera insomma la realtà naturale si spiega con la matematica la realtà naturale è spiegabile con la matematica le scienze naturali l'esperienza non avevano un importante ruolo all'interno dell'accademia platonica anzi non ne avevano per quel che ne sappiamo alcuno diversa la cosa per Aristotele Aristotele privilegia decisamente le scienze naturali il padre fu medico lui era molto portato per le scienze naturali aveva molto interesse per le scienze naturali per l'esperienza ne abbiamo già parlato di questo aspetto mentre svaluta la matematica certamente la matematica fa parte dell'enciclopedia delle scienze ma in tutte le opere che ci ha lasciato si è occupato poco di matematica si è occupato di tante altre cose quindi le scienze naturali empiriche studiano la realtà naturale cioè studiano i fenomeni il loro divenire mentre secondo Aristotele la matematica basandosi su principi quantitativi non è capace proprio di spiegare il definire dei fenomeni le specificità e particolarità dei fenomeni rimane nell'ambito dell'astrazione dell'universalità non riesce a cogliere l'individualità e qui anche una critica appunto alla dottrina matematica con cui Platone voleva spiegare proprio invece la realtà naturale che per Aristotele è irriducibile all'astrazione e all'universalità della matematica bene questa è una formella di Luca della Robbia in cui sono raffigurati Platone e Aristotele che discutono non ho idea di chi dei due sia Platone e chi sia Aristotele è appunto interessante perché è anche chiamata la filosofia questa formella la filosofia è data da il dialogo continuo che dura da 2000 anni tra Platone e Aristotele bene io ho finito ho cercato di andare un po' più velocemente perché c'era tanto da dire metterò il link alla mappa così potrete usare questa mappa salve a tutti e mi fumo una sigaretta ora